E' il 18 febbraio, ci siamo noi, le notti magiche, canale 83, canale d'Italia. E' il 18 febbraio, ci siamo noi, le notti magiche, canale d'Italia. E' il 18 febbraio, ci siamo noi, le notti magiche, canale d'Italia. E' il 18 febbraio, ci siamo noi, le notti magiche, canale d'Italia. Andiamo tre, buttate un urlo. Uno, due, tre. E' il 18 febbraio, ci siamo noi, le notti magiche, canale d'Italia. E' il 18 febbraio, ci siamo noi, le notti magiche, canale d'Italia. Andiamo! 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 E vai! E persuada! grande super talent grandi grandissimi